L'idea che il PD dà, sono sicuro che sia così, è che odì il suo leader, cioè il PD esprime un leader però all'interno del PD controlla tutte le correnti, cioè ogni numero due diciamo cerca di accoltellare il numero uno, è così, cioè è un'altra cosa che è così. No perché effettivamente il PD è proprio caratterizzato da queste forti lotte interne che tendono a far fuori il leader, che è poi il problema perché il leader è quello che dovrebbe dettare la linea, il punto è che dettare la linea vuol dire che la devi dettare ai capicorrente, è una roba un po' come l'eliquota ragazzi. Però… Secondo me è peggio. Dell'eliquota? Possiamo renderla un po' più piratesca, tipo posso usare delle terminologie, il capitano, il moz, non lo so, però la verità è questa, cioè tu domani diventi la leader del PD, ti trovi effettivamente all'interno di un sistema che è fatto di persone che, a parte che non ti vorranno lì sostanzialmente, non ti vorrebbero lì, ma che cercheranno di indirizzare il partito d'altra parte, cioè si inizia a litigare subito. Come fai a… C'è solo un modo per farlo, un'ondata di partecipazione che travolga le correnti e che possa cambiare gli equilibri anche interni al partito. Cioè alla fine dei conti la politica è una cosa molto semplice, conta la capacità di costruire consenso attorno a delle idee, dopodiché bisogna essere molto fermi nel sapere da chi ti fai accompagnare, ma io se sono sopravvissuta in questi sette anni nella giungla, perché adesso il PD, tutte le criticità che possiamo dire, ma non è che fuori dal PD le dinamiche siano molto migliori, anzi di solito sono partiti più piccoli e quindi di per sé anche abbastanza più cattivi diciamo dentro il ceto politico. Ok. Allora, se sono sopravvissuta è semplicemente perché mi sono tenuta stretta la mia autonomia, la mia libertà e soprattutto ho sempre rifiutato le logiche di cooptazione che sono quelle attraverso cui le correnti poi, al momento in cui c'è da fare le liste, pretendono di dire la loro. Allora come fai? Devi cambiare non solo la visione, ma devi cambiare anche il gruppo dirigente, perché non possono essere sempre gli stessi a farsi interpreti della stessa, diciamo. E come fai? Ma come fai? Alla parte che ci stiamo candidando e diciamo la candidatura è stata soprattutto un appello alle persone libere che sono rimaste schiacciate da quelle logiche, come ho rischiato di fare io tante volte, poi ho fatto tipo Trinity come ti dicevo prima, no? In Matrix, no? Ok. Ecco, ma c'è una miriade di giovani e donne che sono rimasti schiacciati o respinti da quelle dinamiche e che oggi stanno provando, a cui noi stiamo provando ad appellarci per dire, oh, questa è casa nostra, la possiamo ricostruire insieme. Se siamo tante tanti, scalziamo quelle dinamiche. E poi, vuoi un esempio concreto? Io penso che vada cambiata la legge elettorale, perché è una legge elettorale pessima che non garantisce nessun rapporto tra i rappresentati e i rappresentanti. E penso, e penso che questa discussione, Alessandro, la dovremmo fare adesso, non aspettare a tre mesi prima delle prossime elezioni per sentirci dire che poi è troppo tardi per cambiare la legge elettorale. Penso che, scusa, finisco su questo, penso che è una legge elettorale che anzitutto dovrebbe sanare una grande ingiustizia, cioè far votare fuori sede perché abbiamo escluso dal voto 5 milioni di chilometri. Questa era la premessa. Guarda, è facile, facile. Basta, guarda, si incardina se c'è la volontà politica anche dalla maggioranza e ci stiamo lavorando, perché non deve essere una roba di parte, ci arriviamo. Finché ci sono le liste bloccate, vuoi evitare i meccanismi correntizi? È molto semplice. Fai le primarie per i parlamentari come ha fatto Bersani nel 2013. E io lo dico perché vorrei essere una segretaria del PD a cui il gruppo dirigente che viene eletto non deve niente. Vedrai che cambia tutto, se tu ti circondi di persone competenti anziché di quelle più fedeli alla capa o al capo di turno. E lo dico a me per prima. Ok. Grazie per aver guardato questa clip. Su questo canale YouTube ne trovi molte altre provenienti da live, video vari, ma soprattutto dal Breaking Italy Night. Iscriviti per non perdere. Grazie inoltre a Tridon che sponsorizza le serate in teatro e che per l'occasione ha creato un albero ad hoc che si può ottenere solo fino alla conclusione della stagione 3 di Breaking Italy Night. E per ottenere questa versione speciale di una pianta di guava che verrà piantata in Malawi per aiutare le popolazioni locali e combattere la deforestazione, trovate un link in descrizione.